Sì, certamente abbiamo un piano approvato dai nostri soci per localizzare sul territorio dalle sedi periferiche che consentono di essere più vicini ai cittadini delle varie aree. Sul nostro territorio sono previste 7 sedi, in Val Seriana ci sarà la sede di Casnigo in località del Costone, se ricordo bene, ed è dinanzi a un distributore per chi ovviamente conosce più di me questa area, davanti a un distributore di benzina, diciamo che c'era un'attività a Cerbis, mi pare che si chiami, e oltre a questo noi stiamo attivando poi uno sportello a Zogno, sono già operativi quelli di Ghisalbe e di Lurano e comunque è previsto questa apertura sicuramente entro la fine dell'anno, probabilmente a novembre, stiamo lavorando perché a novembre questo sportello possa essere aperto, ma non sarà solo uno sportello ufficio per intenderci, ma è proprio la sede operativa di tutte Uniacque, anche con mezzi tecnici, con operai, con mezzi di manutenzione per poter intervenire tempestivamente sul territorio della Valla Seriana. Sì, stiamo preparando la sede di Casnigo, deve essere una sede operativa sia a livello amministrativo che a livello di manutenzione tecnico, quindi lo sforzo che sta facendo Uniacque è quello di dislocare sul territorio i servizi, l'input che ha dato il Presidente della provincia è chiaro che è quello di ottimizzare i servizi sul territorio, vediamo di buon auspicio che venga la suddivisione del territorio provinciale in sette sedi, ne stiamo portando avanti cinque, Lurano, Ghisalba, Zogno, Endine, Gaiano, Casnigo e quindi è chiaro che il processo di Uniacque sta andando avanti, anche se con alcune difficoltà la dobbiamo riconosce, una difficoltà è nella bollettazione, noi purtroppo non siamo ancora a regime, stiamo andando a regime, il Consiglio d'amministrazione ha dato un input ben preciso nell'ultima riunione dicendo alla struttura, al direttore, all'ingegner Milanesi di procedere con un potenziamento per quello che riguarda il servizio di bollettazione, non deve più succedere che arrivino delle bollette così arretrate con mesi, mesi e anni interi di cifre, quindi è chiaro che la gente ha delitto a lamentarsi, stiamo operando per eliminare questo inconveniente e il mio impegno, l'impegno del CdA è quello di superarlo senz'altro.